La demenza e la malattia di Alzheimer La demenza è una patologia cerebrale che compromette diverse facoltà cognitive rispetto a un livello precedentemente acquisito. Questi disturbi interessano la memoria e almeno una delle cosiddette facoltà cognitive superiori, quali il linguaggio, il riconoscimento di persone oggetti, l'orientamento, la pianificazione e l'organizzazione della routine quotidiana. I disturbi devono essere di entità tale da limitare la persona impedendone di essere autonoma. Ne risulta spesso anche un cambiamento del comportamento e dell'umore del paziente, che diventa arrequieto, timoroso, depresso o soffre di deliri. La demenza non fa parte del naturale processo di invecchiamento. Si dice che è una patologia età correlata, ossia più si diventa anziani, più è elevato il rischio di sviluppare tale patologia. La perdita di memoria e delle altre facoltà cognitive rappresentano sempre un processo patologico e come tale vanno correttamente diagnosticate, indagate e trattate. Il sesso femminile, in ragione della maggior longevità, risulta più colpito rispetto al sesso maschile dalla demenza. Ma la demenza non colpisce solo le persone anziane. Il 5% dei pazienti dementi ha infatti meno di 65 anni. In questa fascia di età sono più frequenti le forme rare ed ereditarie di demenza. La malattia di Alzheimer è la causa più frequente di demenza e determina una degenerazione dei neuroni e un'alterazione biochimica del sistema nervoso centrale. Ci sono molte altre cause di demenza. In tipi differenti di demenza viene colpita una parte diversa del cervello. La corteccia cerebrale è infatti organizzata in aree sensitive e motorie. Vi sono poi le aree specializzate a svolgere compiti cosiddetti associativi, quali il ragionamento, la risoluzione dei problemi e il richiamo delle informazioni. La sede della memoria a breve termine è l'area denominata ipocampo, perché ha la forma di un cavalluccio marino. Nel cervello alzheimeriano la corteccia si raggrinzisce, è atrofica, i ventricoli si dilatano e si riempiono di liquor e l'ippocampo è la parte che diventa più severamente atrofica. In questa foto potete vedere il confronto fra un cervello normale e un cervello affetto da malattie di Alzheimer. Si nota l'evidente grado di atrofia e la dilatazione dei ventricoli. A livello microscopico si è visto che la malattia si associa alla degenerazione di due proteine, la proteina tau che determina un sovvertimento dei microtuboli delle cellule neuronali e la beta-amiloide che si accumula all'esterno dei neuroni svolgendo un'azione tossica sul sistema nervoso centrale. Come detto in precedenza, la malattia di Alzheimer è la principale forma di demenza, ma non è l'unica. Va poi ricordata la demenza vascolare, causata da ischemie, ossia piccoli infarti che coinvolgono le aree associative, o la malattia a corpi di Levi, che presenta sintomi comuni fra la malattia di Alzheimer e il morbo di Parkinson. Fu nel 1901 che il medico tedesco Alois Alzheimer notò in una paziente ricoverata francoforte dei sintomi particolari. Oltre a disturbi comportamentali e a manie di persecuzione, insonnia e difficoltà di linguaggio, la paziente aveva perso completamente la capacità di ricordare semplici informazioni apprese poco tempo prima. La sua memoria a breve termine era inevitabilmente compromessa. Quando morì, il suo cervello fu analizzato e si scoprirono le alterazioni istologiche di cui abbiamo parlato prima. E più tardi, la malattia prese nome di malattia di Alzheimer. Oggi sappiamo che le damienze coprono un vasto spettro di patologie che vanno dalle forme prettamente degenerative a quelle prevalentemente ischemiche causate dagli ictus. Abbiamo in mezzo però una serie di altre patologie e di forme miste nelle quali l'età avanzata e il sommarsi di patologie cardiovascolari quali l'ipertensione, l'ipercolesterolemia e il diabete svolgono anch'esse un'azione deleteria sul sistema nervoso centrale. Ma quali sono i sintomi della demenza? Innanzitutto il paziente dimentica più spesso appuntamenti, scadenze, bollette da pagare, e questo, ricordo, deve essere di entità tale da generare un impatto funzionale. Inoltre il paziente non è più in grado di compiere azioni comuni che ha sempre svolto correttamente quali cucinare, farsi il nodo alla cravatta o acudire il proprio cane. Può presentare anche perdita dell'orientamento, perdersi per strada, vagare senza meta o presentarsi smarrito e confuso possono insorgere inoltre cambiamenti di umore e di carattere sviluppare depressione, crisi di pianto, apatia, ritiro sociale, fobie e sospettosità. Inoltre il paziente presenta disturbi dell'attenzione ha difficoltà a fare semplici conti, sbaglia le proporzioni e non riesce più a concentrarsi. Inoltre possono comparire comportamenti incongrui e inappropriati, errori grossolane di giudizio, bizzarrie, confondimento di oggetti e compiere azioni insensate. Si è visto che il decorso della malattia di Alzheimer è di circa 10 anni. All'inizio i sintomi sono lievi e riguardano l'orientamento, il linguaggio, gli sbalzi di umore. In questa fase il paziente ha ancora una riserva cognitiva e riesce più o meno a compensare i propri deficit. Man mano che la patologia avanza i sintomi si vanno sempre più severi fino ad arrivare agli ultimi stadi di malattia in cui il paziente è completamente allettato, non riconosce più i propri familiari e non riesce più ad esprimersi. Più che una malattia, la demenza è una sindrome che comprende aspetti neurologici, sintomi comportamentali e ha un importante impatto sull'ambiente e sulle relazioni interpersonali. Oggi sappiamo che è possibile prevenire il deterioramento cognitivo attraverso un'efficace azione contro le malattie cardiovascolari, mantenendosi fisicamente attivi, seguendo una dieta sana, povera di grassi insaturi, mettendo alla prova le proprie capacità intellettive ed avendo una vita sociale ricca e con attività socialmente coinvolgenti. Nell'arco della nostra vita, ed in particolare in età giovane adulta, è importante evitare stili di vita dannosi, quali l'etilismo e il tabagismo, e curare bene le malattie cardiovascolari. Un importante studio pubblicato sull'autorevole rivista scientifica The Lancet ha identificato nove fattori di rischio, la bassa scolarizzazione, il deficit uditivo, l'ipertensione arteriosa, l'obesità, il fumo di sigaretta, il diabete, la depressione, la sedentarietà e l'isolamento sociale. Gli studiosi dicono che combattendo questi nuovi fattori di rischio si potrebbe prevenire oltre un terzo dei casi di demenza. La diagnosi di demenza non significa una condanna, è comunque un tempo di vita. Anche se disponiamo solo di terapie sintomatiche, ossia rivolte ai sintomi e non in grado di variare il decorso clinico della malattia, abbiamo comunque possibilità di fornire terapie che possono essere efficaci per rallentare il processo dementigeno. Tutto questo si deve unire a una società che deve essere in grado di permettere ai pazienti di vivere in maniera attiva e ricca di significato la propria malattia. È importante costruire comunità amiche della demenza e svolgere quindi un'azione di prevenzione collettiva sulle conseguenze negative della malattia e questo si può fare ovviando alla riduzione delle reti familiari, amicali e delle relazioni di vicinato, sostenendo il volontariato, ridando significato alla vita collettiva e progettando la città del futuro, facendo incontrare domande e offerte dei servizi alla persona e implementando e diffondendo l'utilizzo delle moderne tecnologie che possono aiutare molto i pazienti anziani con difficoltà. È inoltre necessario prevenire lo stigma ancora legato a questa malattia, combattere l'isolamento e la solitudine degli anziani, prevenire il peggionamento delle funzioni cognitive, fornire un ambiente adeguato a prevenire disturbi comportamentali e incentivare l'utilizzo dei servizi sociali disponibili. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi ricordiamo che la nostra equip medica è sempre a disposizione per rispondere a domande e quesiti di pazienti e dei loro familiari. Grazie. Grazie.